Gabriele Gibilterra che ha deciso il match, sei entrato, Gabriele, hai segnato, meglio di così, raccontaci questo gol. Buonasera a tutti, è un'emozione incredibile, è la seconda volta che mi capita di segnare sotto una curva così importante. La prima era a Foggia, nel 2021, e diciamo che oggi è stata la giornata perfetta. Sono entrato dopo, sullo 0-0, l'ho visualizzato, ero convinto e è arrivato. Poi serve anche fortuna nel calcio, però... Arrivata questa palla, gol facile se vogliamo, però bisogna essere nel posto giusto al momento giusto. Non è esatto, gol abbastanza semplice, però l'importante è essere lì, perché magari uno sta un po' più indietro, un po' più avanti e la palla non arriva. Quindi sono felicissimo e dai, continuiamo così. Mi dedica? Alla mia famiglia e a me stesso. Senti, Castelfi D'Ardo è comunque una squadra rognosa, perché non vi ha concesso grossi spazi, avete trovato grossa difficoltà, avete avuto nel primo tempo una grande occasione con Forgione per sbloccarla, però poi è vissuta questa partita sul filo dell'equilibrio e anche su qualche errore di troppo. Sì, diciamo al primo tempo abbiamo fatto un po' di fatica, perché loro sono venuti a prenderci forte, poi uscivano bene dalle pressioni. Non ci aspettavamo, diciamo, questa squadra così aggressiva. Quindi abbiamo un po' sofferto, abbiamo avuto l'occasione con Cosimo, primo tempo, potevamo fare meglio. Poi il secondo tempo, piano piano, abbiamo preso fiducia, abbiamo iniziato ad attaccare, poi sono entrato e è andata bene così. Speriamo sempre così. Come avete festeggiato nello spogliatoio per il momento? No, vabbè, abbiamo esultato, però è ancora presto, comunque siamo alla quarta giornata, se non sbaglio. Quindi il campionato è lunghissimo, adesso bisogna stare uniti e far più punti possibili. Tre vittorie, una sconfitta, nove punti, siete, credo, da soli al secondo posto. Il campionato è comunque equilibrato. Sì, il campionato è difficilissimo, però ti ripeto, è troppo presto per parlare di classifica. Adesso, come ti ho detto, bisogna stare uniti e partita per partita, cercare di fare più punti possibili. Un'ultima cosa, il tuo secondo gol, sei diventato il capo cannoniere della tua squadra. Non mi si addice questa parola, diciamo che non sono mai stato uno che segna tanti gol. Quindi le pressioni, mettiamole altri, che è meglio. Io continuo a fare il massimo, cerco di lavorare forte, credo nella vita sana, nel mangiare bene, nel dormire bene, tutte queste cose. Quindi dai, speriamo che ripaghi.